...differenziano in maniera netta riguardo al parametro conduttanza cutanea, abbiamo detto più volte conduttanza cutanea è quella cosa che ha più assomigliato alla macchina della verità. Le sigle stanno, i DAG, DM, DAP e DOC, stanno, te lo dici tu per cosa stanno? ...depressione maggiore. Allora, vedete che le due linee in basso sono caratteristiche del disturbo ossessivo compulsivo e del disturbo depressivo. Vedete? C'è scritto RIPO-RIPO che vuol dire registrazione a riposo, poi c'è scritto STREC che sta per stress, REC sta per recupero. Vedete in alto molto chiaramente che il disturbo di ansia generalizzata e il disturbo di attacchi di panico, ovviamente il disturbo di attacchi di panico ancora di più, hanno valori molto più elevati, hanno un picco, vedete? Al momento della somministrazione dello stress e vedete come è lento il recupero, vedete la differenza fra questi gruppi. Qualcuno, mettiamo che ci sia qui uno psicologo, uno psicoterapeuta, uno psichiatra, potrebbe dirmi ma io lo so già che il disturbo di ansia è diverso dal disturbo di attacchi di panico e diverso dalla depressione. Ma si torna a quello che dicevo prima, in situazioni limite io posso avere quella che una volta si chiamava depressione ansiosa, io posso avere una persona che ha sintomi apparenti di ansietà, invece è già in fase di exhaustion e quindi gli do un ansiolitico, cioè gli do una botta in testa per stare ancora più calmo e questo è quasi già sottoterra. Al contrario posso avere una persona che ha i sintomi esteriori, comportamentali, apparenti di depressione, ma invece c'era una fase iniziale di exhaustion è ancora iperattivato. Quindi se gli do un antidepressivo, ovvero un eccitante, mi va in overload. No, questo è un esame strumentale, elettrodi messi su una manina, che vi farò vedere la collega, la dottoressa Francesca Agostinelli Pugliese, verrà questa mia giovane collaboratrice, si porterà un apparecchia pura portatile tipo Holter, quindi può anche registrare in vivo, si mette in tasca e possiamo registrare una persona che va a giro fuori per 24 ore. episodio di depressione maggiore in questo caso. Va bene? Mi sembra che sia abbastanza chiara questa... E quindi la vostra risposta, la vostra risposta, la vostra risposta è molto alta sia nel attacco di lavaggio, anche nell'antidialità, anche nel mondo di cui si rileva uno stato di attivazione esagerata dell'organismo, già a riposo, poi davanti a uno stimolo attivante è esagerata, è come sparare con un fucile per ammazzare una mosca, sprechi un'enorme energia. Vi sono altre componenti che però sono più specifiche per i clinici, per esempio vi sono... il disturbo ossessivo compulsivo è giustamente per ora, il DS5 sembra di no è messo al confine nei disturbi d'ansia, perché? Perché l'ossessione, le idee prevalenti e soprattutto le compulsioni, sono un modo per fronteggiare un'ansia che il soggetto non riesce a gestire. Può fare un esempio? Una casalinga molto dedita alla polizia? Molto dedita alla polizia, che aggiuste tutte le... mette tutte le statuine al posto giusto, che non esce di casa se non ha messo tutto a posto, che non riesce a... oppure che si lava in continuazione. Ah, sì, per inquadrare il suo manaccio. Certo, ma... E se la comprensione ha un'altra con tanta situazione, un'altra situazione, è possibile che un grado di famiglia non si viva tanto un elettro... cioè, invece di suggerire magari un sacco di psicoterapia, perciò una costruzione... Ma guarda, io mi sono trovato davanti... No, si può, che ha una situazione... Profusa. Cioè, cosa sta facendo addirittura adesso con un sistema, quello che si fa anche con noi? Le disidroge... Le disidroge... Sì, perché... No, disidroge è il contrario, eh? No, no, no. Iperidroge palmare. Cioè, invece di consigliarne magari un percorso a quella, gli stanno facendo fare una... Cioè, una parecchio... Le bacinelle galvaniche... Assumo, sì... Se la può consolare, è venuto da me un impresario, un impresario della Bersilia con diversi alberghi, con la iperidrosi palmare, ma questo signore si metteva a sedere e c'era un pozzetto d'acqua per terra, in corrispondenza dei braccioli, quindi gocciolava. Ha trovato un chirurgo di Brescia che gli ha detto, venga da me, le faccio una resezione del nervo vago, vedrà che non suda più. Ora, se vi ricordate le immagini di prima, avete presente il nervo vago? Cioè, regola tutto quanto, cioè questo non va più al gabinetto. Perché ovviamente non ha più momenti peristalti, se non le stanno... Questo è un folle, no? Da Gestapo. Però, quindi, non si meraviglia di niente. È anche questo un aspetto costituzionale dovuto a un'iperattivazione, quindi va valutato, va visto, e poi si può assolutamente correggere, ci mancherebbe pure. Però non è anche qui, è il confine che si spiega, la detta lavori, fra counseling e psicoterapia. Perché possono bastare, una volta che si è inquadrato, quindi una serie di colloqui, un'osservazione, eccetera, con alcuni test, i test psicologici standardizzati, inquadrano degli aspetti molecolari, quindi un pezzettino di lei, non è che c'è una specie di sacco dove lei entra, però se uno fa un aspetto comportamentale, uno più descrittivo degli aspetti emozionali, temperamento, personalità, a quel punto ha un quadro di riferimento. Poi è chiaro che la cosa fondamentale è la storia personale, il vissuto. Mescoliamo tutto, scicheriamo e vediamo. Può essere importante, a volte, in case di questo genere, cioè il disturbo psicosomatico, qualunque disturbo psicosomatico, è facilmente debellabile. Se la persona c'entra dentro, vi entra dentro, cosa vuol dire in senso psicologico? Che io devo entrare nel meccanismo che mi produce questo. quindi lo devo incorporare. Normalmente lo psicosomatico cerca di non pensarci, di non vedere. Conosce il processo, perché il problema a volte c'è. Allora cosa vuol dire? Se io... Facciamo un esempio metaforico, un po' psicodinamico. L'iperidosi palmare è pericolosa per le persone che si devono... me la concede la sua mano? Grazie. Che si devono salutare. Quindi io devo avere contatti bravi. Quelli con l'iperidosi stengono il faccioletto sempre in mano, non sapendo che un faccioletto di carta assorbe ancora di più e quindi facilita questo. Quindi, in senso psicoanalitico... Vediamo la signora che mano c'è. No, non c'è nulla. No. Diciamo, uno psicoanalista direbbe... Più sotto la scelle... Esatto. Esatto. Allora, abbiamo già fatto una diagnosi se l'è fatta da sola. Abbiamo un problema di accettazione di sé nei rapporti interpersonali. Uno può darsi che abbia bisogno di una psicoterapia per capire bene il rapporto con la sua mamma o con la figura materna che c'è in testa. Potrei fare lo psicologo da grande. Oppure può bastare a volte una restituzione. Cioè, se la persona è motivata davvero a conoscersi in senso latino, cioè a appropriarsi dei famosi specchettini sulla palla delle varie parti di sé, può bastare un'analisi di questo tipo, che non è una diagnosi, come si diceva con Dino, un'analisi eticattante. Una diagnosi funzionale. Capire certe cose può non rendere necessario fare appunto un'analisi del profondo, un venti seduto, più di psicoterapia. E quindi, perché la persona piano piano prende coscienza e acquisisce non solo delle social skills, delle abilità sociali, ma delle abilità di gestione di sé nel, per esempio, ritardare a certi momenti, perché le persone che hanno un'ansia sociale, in questo caso, stanno ferme e ferme e poi si buttano, no? Quindi si buttano e... O, invece, ci sono delle modalità, in questo caso, se la persona non è compromessa o un buon equilibrio generale, delle modalità molto... che possono essere imparate, specialmente persone con una buona elaborazione mentale. È chiaro che se ci sono livelli culturali o sociali molto bassi o problemi psichici rilevanti, no? Ma se in assenza di questo sono abbastanza facilmente risolvibili. Di facile non c'è niente. Però ecco, non è così che... Oddio, ci vuole una psicoterapia, mi ci vuole dieci anni di psicanalista, a cinque seduti alla settimana... No, ecco, non è così. Ok? Altre domande? Parliamo del hidden disorder? Allora, non interessa ai maschietti, però è interessante questa cosa, perché è un'altra di quelle faccende che passano in silenzio. vedete la sezione di un ovaio normale di un ovaio policistico. Una spiegazione anche per i maschietti, veloce, di come avviene una lovulazione. Guardate, io dico i maschietti per non offendere le femminucce, ma le femminucce normalmente sono di un'ignoranza abissale su come funziona il loro organismo, normalmente. per cui vi possono essere delle eccezioni. Se mi sbaglio, una venga qua e racconta alle altre come funziona l'ovulazione. Vieni lei! Allora, alla nascita le femmine hanno circa 750 ovociti che sono i precursori degli ovuli. Ecco, per esempio, ho spiegato il rischio di malformazioni genetiche che è in maggiore responsabilità delle femmine rispetto ai maschi. non è colpa delle femmine, è colpa della natura. Voi nascete, avete 700 uova e le tue uova hanno 25 anni. Quanti anni hai? Hanno 30 anni. Le sue ne hanno 40, le sue ne hanno non so che. Invece, i suoi spermatozoi, se lui ha avuto un rapporto sessuale con sua moglie, l'altro ieri hanno 48 ore. Ok? Questo è un punto importante. L'ovocita produce un ovulo. Quindi, dall'interno del... Se questo è la gona del femminile, cioè l'ovaio, abbiamo dentro un nucleo che produce, che contiene tutti questi ovociti, che contiene tutti questi precursori dell'ovulo che piano piano si spostano verso l'esterno, fino a creare una specie di fungo. Quindi qua dentro c'è un ovocita. Dovuto all'equilibrio fra vari ormoni, che sono l'ormone follicolo? Che è? Che vuol dire? L'ormone follicolo stimolante fa crescere questa roba qua, che si chiama follicolo. Dopo un po' questo qua si apre e l'ovulo va in giro. Qua c'è una roba fatta così, poi si apre un tubicino, che si chiama tuba di falloppio. Quindi queste ciglia catturano questo e se lo portano dentro. Questo sta qui per 24-48 ore all'interno della tuba, la tuba finisce nell'utero, qua c'è la vasina, sta qui per un po', se ne arriva qualcosa si feconda e diventa uovo. Se non arriva niente scende e se ne va con il ciclo mestruale. Cosa succede? Che avete visto, ho cercato di farvi vedere, che una sostanza come la prolattina è molto sensibile ai livelli di stress, soprattutto di stress cronico. Ma che anche la funzione gonadica può risentire nel suo insieme, fatta di vari tipi di sostanze, con nomi strani, l'estradiolo, il delta-4-androssenerione, il progesterone, queste cose strane. Allora, è influenzata dallo stress, soprattutto dallo stress cronico. Ci può essere uno stress traumatico che può far sospendere la menstruazione. Oppure ci può essere una situazione di pesante esaurimento che fa sospendere la fase ovulatoria. È chiaro? È un caso anoressica. Il corpo è defedato per difendere se stesso se ne frega di riprodursi. Ma al di là di questa situazione estrema, vi sono altre situazioni che, come tutte quelle che riguardano gli aspetti psicosomatiche, sono in qualche modo influenzate dalla Costituzione. del singolo individuo. Per cui vi può essere la sospensione della menstruazione. Per uno o più cicli. Si chiama dismenorrea. Bene. Il guaio lo produce l'ignoranza dell'operatore sanitario e la superficialità, da cui hidden disorder. Perché? Perché se lei è una ragazzina di 15-16 anni o 17 anni, va dal medico curante e gli dice non mi vengono le mestruazioni da quattro mesi. Lui gli dice sei incinta? No. Allora ti mando dallo specialista. Lei va da lui che è un ginecologo e gli dice non mi vengono le mestruazioni. va tutto bene, ti guardo dentro, tutto a polso. Cosa fa il ginecologo? Più forte. Mi dà la pillola. Cos'è la pillola? È un progestinico. Quindi? Ti dà un ormone che ti fa venire artificialmente la mestruazione. Se io ho un problema ovarico, cosa mi succede? Che mi posso sviluppare un follicolo con dentro l'ovulo, ma se non ho abbastanza ormone questo ovulo non mi scoppia, il follicolo non si apre, l'ovulo non esce. Se non esce dopo un po' di tempo si cistizza, si richiude. Poi me ne viene un altro qua, poi me ne viene un altro qua. Io lo faccio in sezione. Oppure addirittura mi si possono cistizzare prima ancora di sporgere fuori. Fino ad arrivare ad avere un ovaio policistico. Ok? Attenzione, vi sono due definizioni. C'è multifollicolare e policistico. Diverso. Multifollicolare vuol dire che ho tanti follicoli pronti. Cistico vuol dire che sono rinchiusi, sono più impossibilitate da aprirsi. Cosa succede in questa fase? Finché prendo la pillola va tutto bene. Se però poi decido di avere un figlio, col cavolo che mi viene il figlio, non solo, ma se sospendo la pillola, a un certo punto non solo non mi vengono più le amministrazioni, ma ho uno squilibrio ormonale. Ora, non è esattamente come i vasi comunicanti, però abbiamo detto questa mattina che io e lei abbiamo gli stessi ormoni. Maschi e femmine siamo uguali, abbiamo soltanto uno squilibrio. È chiaro? Lei ha un basso livello di testosterone e io ho un basso livello di FSH. Ma ce l'ho anch'io. O di prolattina. Se nella femmina si abbassano i livelli di ormoni femminili, l'ormone maschile principale, c'è anche il delta-4 androsenedione, ma soprattutto il testosterone prenderà forza. Non perché aumenta. Non è che aumenta il testosterone. Diviniscono gli ormoni femminili. Segni dell'ovario policistico. Aumento della peluria sullo stomaco, intorno all'aureole, sotto la gola, e poi chiaramente cominciano a venire la barba, e poi cominciano a aumentare i peli nelle zone dove sono i peli maschili. Io ho visto anche una donna con alopecia, non dico come la mia, ma insomma, si arriva nei casi estremi, non ci si arriva più oramai perché viene riconosciuta, addirittura con ipertrofia tritoridea. Quindi sta diventando un mezzo uomo davvero. La cosa tremenda è che viene diagnosticato quando ormai è in fase avanzata. Perché? Perché alla tizia che gli vengono due peli in più, se non glielo dice qualcuno, va da chi? Dall'estetista a farsi rilevare. da cui libro alto così che spiega e si chiama The Hidden Disorder, non a caso. Oppure ladro della femminilità perché chiaramente vi è una situazione di questo genere. guardate, queste sono quelle che abbiamo visto nel nostro ambulatorio e per… questo è un test che misura il rischio per disturbi stress correlati, i punteggi significativi sono sopra 5, vedete che diversi soggetti hanno valori che riguardano DS, che sta per disturbi da stress, e TL, scarsità di tempo libero. Per cui queste persone sono soggette al disturbi da stress. Per gli addetti ai lavori, guardate, questo è il profilo dell'MPI. Qualche psicologo non conosce l'MPI? Tu lo conosci? Tu lo conosci? Tu lo conosci? Altri psicologi? Dov'è l'altra persona non c'è. Ok. Questo misura possibili quadri psicopatologici. Quindi le sigle che vedete stanno per isteria, depressione, ipocondria, deviazione psicopatica, paranoia, psicastenia, schizofrenia e così via. Quello che ci interessa è l'MF, che è una scala che misura delle caratteristiche più mascoline o femminili. vedete in caso di soggetti che hanno questo disturbo da meno di tre anni, meno di tre anni, hanno un valore che è praticamente pare a persone omosessuali, conclamate, che vivono male il proprio ruolo sessuale. Nessuna di queste è omosessuale. Attenzione. Quindi, per chiarire da un punto di vista psicopatologico, una persona che è orientata verso il proprio sesso, quindi ha un problema nel vivere la propria sessualità. insieme, ovviamente, a HS, cioè disturbi o comunque una sensazione di qualcosa che non va. L'ipocondria è la persona che dice, oddio che cos'ho. Quindi è chiarissimo come vi sia un andamento tipico in queste donne. da un punto di vista psicologico e psicopatologico, vi è una comunanza, una vicinanza. Pensate che sono persone, ora non ve l'ho fatto vedere, ma di età diverse, cultura anche diversa, sempre media, medio alta, però sono completamente diverse. Pensate il potere che hanno da questo punto di vista gli ormoni. Questo potrebbe essere anche un altro tipo di possibile intervento sul sociale. Fare un'opera di prevenzione sulla policistose ovarica mettendosi d'accordo con i ginecologi senza dirgli ti voglio insegnare il mestiere. Per esempio, tutte le persone che vengono da te per problemi mestruali, uno, le mandi a un bravo ecografista e le fai fare un'ecografia pelvica con i fiocchi, due, me le mandi a me o al mio centro, al mio ambulatorio e vediamo di caratterizzarle dal punto di vista dello stress, visto che parliamo di stress. Questa è un'altra idea. Guardate che viene una diffusione altissima. e ci mancherebbe. Però se guardi la letteratura scientifica, devo dire, guardi, si dà un'occhiata. e allora devo fare un po' di aggiornamenti. Tu c'hai il PGA? Ce l'hai avuto? C'hai questa cosa tu? No, ma io ho delle... praticamente ho delle risposte. No, no, no. Ah. No, no. No, no. Niente se ce l'ha avuto. No, no, poi va. No, no. Non c'è che vuole rispettare. Non c'è che vuole rispettare? No. Dicili che io ho capito. Viti, viti, viti. Non c'è niente. Niente e niente. E' il marito? Scusate. Io ho sempre detto che secondo me la vita che... Ma voi che ho forse potete incidere su questa cosa? Le ventrazioni sono regolate. Scusate. Non lo lo faccio più. Però... Loro quindi... Però non è una... Beh, se le ventrazioni sono... Gli umori sono tutti a posto. Scusate, ma non mi hanno portato l'indicazione tra i piedi? E' il marito è tutto a posto. Scusate. 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 Un'altra cosa che potrei proporre a chi vuole lavorare sul territorio... Scusate. 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 Bisogna anche cercare, secondo il mio punto di vista, delle situazioni di nicchia. Scusate. Ovvero fare quelle cose che gli altri non fanno, perché sennò se le fanno tutti... Una cosa che ho fatto anni fa è che ha avuto un certo tipo di risultato. E fare uno studio nelle scuole, insieme a qualche... ovviamente il medico internista e l'altra, per la valutazione di possibili casi di Klinefetter. E' la sindrome di Klinefetter che colpisce un maschio su... C'è il scelto per quello del... Allora, la sindrome genetica che è caratterizzata dal cariotipo XXY. Chiaramente ci vuole, lo so che non c'è la mente, però è molto interessante perché non hanno grossi problemi, non sono particolarmente intelligenti, sono molto... Non sono né stupidi, però non sono con elevato in reale intelligenza. Soprattutto l'intelligenza teoricamente è più elevata quella pratica e hanno una certa abilità artistica, sono bravi in disegno, queste cose qua. oppure in applicazioni tecniche, per esempio. La cosa molto particolare è che non si evidenziano particolari segni fino a una certa età. una volta andavano a evitare e... oppure se ne ha di ripostura se ne accorgevano perché non avevano figli. Chiaramente, essendo una sindrome genetica, sono assolutamente infertili. Il grosso problema è la comunicazione. Cioè, io ho trovato persone che sono andate in depressione o sono diventate omasessuali perché hanno trovato un genio che gli ha detto ma sai che lei era mezza femmina? Ma lei si vive, ma... Certo, la vedo, non è? Un genio. Questo qua sono molto interessante. C'è anche il corrispettivo femminile che la sento meditarla, però la tardi la riconosci perché rimane bassa, è bruttina, eccetera, quindi non cresce. Invece questi sono ragazzoni anche abbastanza alti, eccetera, non hanno morfologicamente niente di particolare se non i testicoli piccoli. Però piccoli, però ci sono. Quindi, al di là del potersi coinvolgere anche qui la sindrome strada, però, è molto importante perché un'errata comunicazione in età post adolescenziale può creare degli sconquarsi. Le persone che poi in età adulta addirittura si comprono matrimonio, se non c'è. Mentre non accade nulla. Queste persone non hanno deficit con i gini conclamati, possono fare le vita normalissime, eccetera, e lo possono fare i figli che sono infetti. Se volete vi racconto un aneddoto così si rallenta. Non c'è un aneddoto. Sì, non c'è. Sì, sì, sì. Storia Vena. Lavoravo appunto al ministro Policlinico. Mi chiama il mio collega, neanche il termista, mi dice, se sei professore, direttore della clinica, vorrei parlarti di un caso particolare. Leopardo, un cancro, un suolo. Ciao professore Giacomo e Bart. Senti, abbiamo un problema, cioè abbiamo visto un signore con problema prostatico, abbiamo visto che aveva testicoli piccoli, e abbiamo fatto un'analisi, e abbiamo visto che è un Klinefelter. il signore ha 66, è un Klinefelter. E lo guardo e poi dice, vabbè, è un Klinefelter. Lei dice, il problema è che fuori c'è la moglie con quattro figli, e quello di 40 anni è qui fuori. Dico, mica vorrei che ora gli vada a dire che c'è la mamma zoccola. ma tu sei matto, chiami lo psicologo per andare a dire al figlio di 40 anni che c'è la mamma che... Tu strappi tu, no, ma se chiedono la copia alla cartella clinica, non trovano niente, devono andare in laboratorio. Ma tu sei matto, sconquarsi una cosa del genere, no? Ecco, questa storia è la vera su Klinefelter, è bellissima, fantastica. E ci mancherebbe, ma cospitali dici. Ma che fai? Ma tu sei matto, ma io mi prendo la responsabilità per andare a dire, guardi, quei figli là sono di Giovanni, forse, o di Francesco, non lo so. O di Giuseppe, c'è un quattro. Bellissimo. Questa è una cosa che butto lì insieme a quella del PCO, che può essere interessante. Questa è un'opera di prevenzione primaria, molto bellina, e anche secondaria, questo tipo di lavoro. appunto, le cose da fare possono essere tantissime, questa di cui ora non vi parlo perché è tardi, perché è troppo lunga come cosa, o se no, se volete ve ne parlo anche, e sulla prevenzione e sulla riabilitazione cardiovascolare, che ha lo stesso tipo di rilevanza percentuale, soltanto che è molto più complessa da gestire, perché se ne occupano già un sacco di altre persone, più o meno bene. E' un pochino facendo dei paragoni, un pochino come la gestione del paziente affetto dal tossico dipendenza o dalla dipendenza della sostanza. C'è dentro lo psichiatra, lo psicoterapeuta, lo psicologo, l'educatore, il pinco pallino, c'è un sacco di gente. Così qui vi è un po' una tendenza a fare un lavoro di riabilitazione, soprattutto fisica. Quindi, se abbiamo tempo ne parliamo, se no, lo rimandiamo. Abbiamo tempo? No, no, vedi bene, ce la facciamo? Quando lo dice la capa. Allora. Allora. Dopo torniamo indietro, ma intanto vi faccio vedere questa cosa. cosa si intende per il disturbo cardiovascolare? Tante cose. In primis ovviamente c'è l'infarto. Cos'è l'infarto? Lo sapete? Cos'è? Allora. E' stato detto da quelle parti là. Vi è un'occlusione, un non passaggio, di sangue, dovuto a varie cause. Se è una causa traumatica si parla di emorragia, se invece è un'altra causa si parla, per esempio, di spasmo, di cui vi racconterò dopo, oppure altre cause. Comunque, vi è un'ostruzione che impedisce al sangue di arrivare in una data zona. Se non arriva il sangue, non arriva il nutrimento. Quindi le cellule, oltre quel dato limite, cominciano a morire. Se muoiono le cellule del cuore, moriamo anche noi. Quindi infarto vuol dire che c'è una zona necrotica, una zona di cellule morte, che si sta espandendo. Vedete, rappresentata nella tabella, fattori di rischio per l'infarto del mio cardio e per l'ischemia. Quindi un difficile passaggio di sangue, soprattutto da quelle che si chiamano arterie coronarie. Coronarie perché sono una specie di corona sopra il cuore, che sono grosse come un dito. È chiaro che la familiarità, l'età, il sesso e per le donne essere in menopausa è immodificabile come fattore di rischio. Ma bene sono un sacco invece modificabili. Vedete, il fumo, ipercolesterolemia, ipertensione, sovrappeso obesità, diabete mellito, ipertrigliceridemia, iperomocistinemia, stress ossidativi, ridotto tono parasimpatico, depressione, stress cronico a livello psicofisico, comportamento del tipo A e in particolare l'ostilità. Vedete che... scusami... Lascia perdere, non importa. Quello che importa è che vi sono uno, due, tre, quattro componenti strettamente psicologiche. 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 Che sono statisticamente rilevanti e riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come fattori di rischio primari per disturbi ischemici cardiovascolari. Altra storiellina vissuta da Pruneti. Per un certo periodo di tempo sono stato ricercatore esterno del CNR e lavoravo appunto su questo tipo di pazienti. C'era anche uno studio europeo molto bello che al tempo si chiamava Breakdown in Human Adaptation to Stress. e studiavamo appunto i fattori di rischio di questo tipo che poi sono diventati, parlo dell'anni 90, successivamente sono diventati stabilmente indicati dall'OMS come concretamente rischiosi. Per dare un'idea del malato psicosomatico grave c'era un giorno un signore con un grave infarto una delle cosiddette anticamere del paradiso di cui parlavo stimane questa mattina è la cosiddetta UTIC che sta per Unità Intensiva di Cura Coronarica si va in UTIC quando c'è un rischio pari al 50% di lasciarci le penne. sono quelle cose che vedete nel film praticamente c'è una specie di anfiteatro i pazienti sono messi nelle varie camere tutti monitorizzati attaccati 24 su 24 da apparegliature che sono in grado di animarlo in secondi non in minuti senza attesa e vi sono più infermieri che dalle loro postazioni vedono in continuazione i soggetti. Bene, il signore era un quasi sessantenne industriale che era arrivato per un grave infarto di 4 cm che era una zona necrotica importante nel cuore e in fase calda di malattia che sono le 48-72 ore dopo l'infarto io con i miei occhi giovane virgulto domani vi faccio vedere anche la fotografia ce l'ho dietro con tanto del tesserino con il camicino ero lì che avevo l'apparecchio per la registrazione e poi gli facevo i test a un punto diceva vabbè ora però grazie questo signore però io devo andare ho da fare chiaramente era sedato quindi era drogato di brutto per non sentire il dolore però secondo lui stava bene ha cominciato a levarsi tutti gli elettrodi poi scendeva dal letto e se ne andava perché vada a fare la sua industria ovviamente li sono saldati al dosso in quattro l'hanno legato con un salame valium e endovena l'infusione lenta e l'hanno lasciato lì questo signore ha avuto uno spasmo coronarico cioè un'arteria coronarica grazie al malfunzionamento di quella roba di cui abbiamo parlato che si chiama sistema nervoso autonomo si è così iperattivato che l'arteria si è chiusa così dopo otto secondi Dio ha voluto che sia riaperta cioè arterie perde lui non aveva ateriosclerosi non aveva segnali di nessun tipo quindi le arterie pulite quindi si chiama spasmo coronarico e questo è dovuto da un certo punto? dovuto a un certo punto un'attivazione che è andato oltre un certo livello perché non è che lo dici tu per piacere ti chiudi? ok? quindi questo è uno dei casi più clamorosi che abbiamo visto poi è chiaro che i casi possono essere tanti vediamo quindi cosa può produrre un ridotto tono del parasimpatico che è il nervo vago abbiamo detto se io ho un ridotto tono del parasimpatico di nuovo il vasico comunicante vuol dire che c'è un aumentato tono e quindi sono iperattivato e sono in grado anche di misurarlo abbiamo visto con strumenti assolutamente in dolore eccetera eccetera può essere una iperattivazione simpatica o un deficit nell'attivazione vagale tradotto in termini di vita di tutti i giorni posso o essere attivato a mille e contratto come una corda di violino o posso non riuscire a rilasciarmi a godere della vita a star bene a essere gratificato per cui il mio livello di distensione di piacere sano è bassissimo sono spiegato meglio o no? allora vi sono due sistemi competitivi uno attiva uno rilassa se io ho un ridotto tono quindi il tono del simpatico è basso il tono parasimpatico parasimpatico è il sistema che gestisce tutti gli organi interni e cerca di riportarli al più basso livello di funzionamento possibile lo aumenta quando mi si abbassa la frequenza cardiaca quando io sono bello calmo e tranquillo e beato quando mi si abbassa la frequenza respiratoria quando sono bello disteso sto prendendo il sole sono là quindi quando sono in uno stato di rilassamento che non è il sonno anche se è una sospensione è uno stato di benessere ok? tant'è che anche a livello cerebrale nel sonno vi sono delle fasi che simulano la veglia ma come? lasciamo stare quindi l'importante è che teniamo tutti presente che non c'è una dicotomia bianco-nero acceso-spento c'è una gradualità attraverso la quale noi possiamo vivere decentemente bene o male in questo caso vuol dire questo queste persone non hanno abbastanza tono vagale quindi non sono distese non provano piacere non provano godimento non stanno bene comunque e il sistema nervoso dedito a questo è poco stimolato ok? più chiaro? quindi in un bilancio diciamo loro sono carenti di questo può essere visto sia con una strumentazione sia con un self-report però in genere queste persone dicono quello che scrivono in genere però queste persone negano tant'è che una delle caratteristiche di questi soggetti è la cosiddetta dinaia per cui non sono come lei che dicono eh vabbè sai però io e hanno una coscienza le persone vengono e come ho accennato stamani le persone vengono e dicono io perché è venito con una loro servizio se non mi fa l'altro ma il cervello si chiama il potale si ma è una cosa diversa sai di eh erano solo due soggetti uno lo si può dipendere l'altro in pratica in Italia sia uno sia l'altro quello che abbiamo avuto di sostante siccome non si ricordavano non stimola più le citture quindi non avversiva quasi la tentazione di questa sostanza mentre all'altro si vedeva che potete perché il circuito di reward di gratificazione è fuso nel tosco dipendente che trova piacere non nella sostanza ma nella ricerca nel cosiddetto craving ok la cosa è complessa in ogni caso l'esempio in questione è di questo tipo il il allora viene da me un tizio mandato dal cardiologo eh anche questo con problemi di ischemia quindi lo va a dolore perché se tu hai una chiusura di un'arteria importante c'è la famosa angina no? l'angina pectoris l'angina di petto con dolori fortissimi bene questo oltre sessantenne con gli euro in milioni che gli uscivano dalle orecchie come a me a te i peli aveva una vita assurda aveva una barca di quasi 40 metri che adoperava come traghetto personale per andare in Sardegna però poi lavorava 16 ore al giorno per tenere sotto controllo tutte le sue attività ed è venuto e mi ha detto chiaramente guardi sono qua perché mi ha mandato il dottor Pinco lei mi deve aiutare perché ho l'ischemia io però ho da fare questo 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 e questo che mi deve aiutare a non cambiare il mio stile di vita dico vabbè rivederci cioè le persone hanno in mente la performance non sanno che muoiono nel frattempo ecco la denaia la negazione è una disperata un desterato disperato tentativo di un mantenimento di uno status quo appena appena è la stessa cosa dell'andare tre o quattro sere la settimana a farle cinque è lo stesso contro natura Sì, già noto dagli psicologi da decenni, tant'è che due studiosi a cui ho fatto riferimento più volte nelle mie poche pubblicazioni l'hanno chiamato appunto amore condizionato dalla prestazione, per chi lo vuol trovare è Sinatra e Lowen, Sinatra non è Frank ovviamente, vero, però questo ha una presa diversa a seconda della tipologia di personalità dei singoli individui, anche di personalità informazione. Quindi sono tanti fattori e cofattori che entrano in gioco e il cosiddetto comportamento di tipo A è uno di questi. L'ultima persona che ho descritto definisce il type of behavior che è stato venuto fuori negli anni 50 e 60 appunto dall'osservazione di due cardiologi americani o meglio ancora dall'intuizione della loro segretaria. Che cosa notò la segretaria? Non se lo ricordo. Notò che le seggiole della sala d'attesa erano consumate soltanto nella parte terminale, come se le persone fossero sempre sul punto di andare via, di scattare. E loro fecero questa osservazione e vengono in effetti che questo che in inglese si chiama time urgency, l'urgenza di tempo, il fare sempre certe cose, era tipica di molti di pazienti cardiovascolari, non di tutti, perché se no sembra che lo stress è basta sia la causa dei disturbi cardiovascolari, ma di molti di questi. Sì, mi sono d'accordo con uno psicologo americano, certo David Jenkins, che ho fatto venire in Italia, due anni prima che tu arrivassi a fare delle lezioni, c'ho ancora le diapositive, quindi il grande David Jenkins went to Italy in Parma in 2004, 2005, mi ricordo, e grande persona, una persona immensa, e tirarono fuori anche un test, oltre che delle interviste, per misurare queste caratteristiche che appunto sono ostilità, cioè rabbia repressa, non espressa, sono urgenza di tempo, sono, esatto, sto descrivendo il comportamento di tipo A, quindi una scarsità di empatia nei rapporti interpersonali, che quindi sono freddi, non gratificanti, un'attenzione alla performance quasi esclusiva, piuttosto che alla qualità dei rapporti, delle situazioni, eccetera, eccetera. Quindi scriveva un pochino il tipo di manager che era tipico in quei tempi, che poi è sfociato nel famoso boom economico degli anni Sessanta, del dopoguerra, prima americano, poi anche europeo. Quindi la persona cinica, però la osservazione intelligente che fece Jenkins, che tirò fuori nel suo, poi negli anni Settanta, nel suo questionario, che si chiamava Jenkins Attivity Survey, fu proprio questa, che non erano persone psicopatiche, cioè non era il cinico psicopatico serial killer potenziale. Al contrario, avevano successo, perché avevano una certa sensibilità, intesa nel senso comune del termine, quindi capacità di risonanza. Tu puoi risonare o meno con una persona. Risonanza ancora prima dell'empatia, perché l'empatia vuol dire che io provo le tue stesse cose. Quindi io prima devo risonare con lei, poi se la conosco posso essere empatico e sentirla e percepirla. E posso esserle con lei due, con lei cinque e con lei uno. L'empatia e la simpatia si assomigliano, ma sono caratteristiche qualitativamente diverse. Simpatoso vuol dire io ho piacere nel sentirti, io provo piacere, mi piace. In questo caso vi è un'identificazione. Mi piacciono le persone che sono all'incirco come me, mi danno una conferma che io sono bello, buono, bravo, che ho capelli lunghi, eccetera. E invece l'empatia vuol dire che risuona insieme. Però vi sono situazioni e persone che hanno questa capacità di vibrare, come un'arpa, queste persone sono da una parte fortunate, ma come tutte le medaglie, dall'altra meno. Perché non è che queste persone risuonano solo per le cose buone, purtroppo risuonano anche per le cose meno buone. È noto che i famosi artisti, eccetera. Alcuni sono addirittura suicidati perché non sopportavano il peso di questa capacità di cogliere le minime sommature della realtà o degli altri. E questa è una delle caratteristiche del type and behavior. Quindi non vi è una psicopatia, ma sono persone che diventano dure per necessità, mi sono spiegato. Quindi che fanno una scelta e ritorniamo al paragone di questa mattina della famosa palla con tanti specchietti e dicono no, questa parte qua non mi appartiene. Allora io mi butto tutto di qua, sul lavoro, sulla performance, sui soldi, eccetera. Tanto da morirne, perché ovviamente la parte che hanno lasciato in disparte è altrettanto importante, al punto da farle morire di crepa cuore. Questo è il type and behavior. Quindi non sono persone che hanno dei comportamenti che possono essere scritti anche come cinici, assolutamente non empatici, ma che in realtà hanno delle caratteristiche di personalità orientate in questo senso. C'ho le prove, toccate con mano. Lo stress cronico a livello psicofisico, questo ne abbiamo parlato tutto il giorno. Cronico vuol dire che io non esco mai da un dato tipo di situazione. Lavoro, lavoro stressante, poco gratificante o comunque non, o anche purtroppo anche uno stress come quello, ma perché a me non mi vengono figlioli, speriamo di no. Se poi a un certo punto ci sono tanti che mi metti in giro, ne dolti uno e poi se ne riparo. Ricordate, per stress cronico c'è scritto giustamente psicofisico, perché lo stress, spero di essermi spiegato oggi, non è una malattia o un'etichetta, è una risposta globale dell'organismo a un dato problema o situazione che viene percepita come problematica. Quindi il nostro corpo, come diceva Eppocrate di Costa questa mattina, l'integrazione mente-corpo vuol dire che a livello psicofisico noi ci attiviamo per il 70-80% in maniera automatica, come diceva lo C.S.M.F. in maniera inconscia, consapevole. Il nostro corpo si mette in moto per affrontare una cosa e se non stiamo attenti continua a stare in moto. E certe persone con caratteristiche di ipercontrollo oppure che hanno una tendenza, ad esempio all'ancia di prestazione, possono avere un atteggiamento particolarmente rivolto alla repressione di certe certe parti di sé, al punto da creare una situazione di perenne tensione. L'esempio che faccio io è della persona che per tenere sotto controllo la macchina va in seconda, sempre, pianura, salita, discesa, sempre in seconda, semmai 80. Ovviamente consumano un sacco di benzina, di olio, usurando il motore. Non solo, ma se sono particolarmente rigide, se c'è qualcuno accanto che gli dice, ma cambiano, io cambiare ci mancherebbe, e continuano dritte per la loro strada. Ecco, questa è la situazione più pericolosa per il discorso dello stress cronico. Il stress cronico a livello psicofisico, cosa vuol dire? Vuol dire che la persona è sorda o cieca, ha i sintomi o situazioni che l'organismo li mette davanti. Perché è terrorizzata dal cambiamento. E' vero che noi non abbiamo LED che... non ha consapevolezza, ma ha un atteggiamento proprio di rifiuto della realtà. Di più. Cioè si chiude. Noi non abbiamo un LED o un cicalino che fa bibée, 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 però ci sono dei segnali di malfunzionamento. Sì, ma lo fa con un punto di riferimento unico, non guarda l'altra faccia, quindi non è capace di… ti faccio un esempio personale, ma non vorrei che fosse interpretato male a livello… io sono un fesso qualunque, non è che io ho risolto il problema o la… però due esempi ti faccio, forse rende bene questa cosa. Allora, uno dei prof che ho conosciuto mi ha dato, mi ha fatto professore a contratto giovanissimo, io ho sempre stato un giocherellone, anche con i miei collaboratori di allora, poi avevo 30 anni, solo sono ora, figuriamoci allora, tant'è che una delle mie collaboratrici, bravissima, mi disse guarda, vedi, quello si vede che è un professore, c'era un tizio che sembrava un carabiniere in alto uniforme, una giacca, cravatta, dico, sei sicuro avergli fatto un complimento, cioè io lo vedo in Borghese fare l'ospedale e riconosco da fuori che è un professore, c'è un carabiniere 24 ore al giorno in servizio. E l'altro episodio, anche questo di molti anni fa, in ospedale va in giro col camice, con la tacchetta, con tutto scritto dottore o professore o picco pallino, in tutti i policlinici, immagino anche quelli di qua, le stradine appena c'è fuori col camice trovi sempre qualcuno che dice, scusi ma dov'è la clinica, dov'è, vabbè, per cui fai 100 metri, 5 persone che ti chiedono. Vicino a dove abito ci sono le Alpi Apuane, che sono dei monti di 2000 metri in faccia al mare, dove sono anche le cave di Michelangelo, sono dietro le spalle, la riviera, poi ci sono le Alpi Apuane, poi c'è la Garfagnana e poi c'è l'Appennino. Quindi sono queste montagne che sono veramente imponenti perché sono appunto la più alta in 1957 metri e vien su dal mare con un fungo. Comunque, da noi è molto frequente andare su a fare passeggiate, fare trekking, attenzione, poi ci chiamano Alpi perché sono così, e sono pericolosissime, se vi capita di andare mettetevi un po' di scarpe decenti perché se andate a fare, che ne so, le cosiddette voltoline, dopo che avete fatto 300 metri cominciate a vedere lapidi di imbecilli che vengono dal mare e vengono su con le scarpe da tennis e poi ci lasciano le penne, perché ovviamente la strada che dico io è sulla Pagna della Croce che è 1880 metri, la vedi lì, ma evitare di fare cretini è sempre meglio. Comunque, ero su che passeggiavo, molti anni fa avevo ancora lo zaino che avevo quando ero scout, quindi intalaiatura di metallo e verde tipo militare, pantaloni alla zuava di velluto, camicia a scacchi, quindi ero vestito da montanaro. Andavo su, mentre camminavo, un titolo mi fa, scusi ma il sentiero 25, il sentiero del Caire, che è il balcino italiano, e io, guardi, se passa di là lì c'è il Monte Procinto e poi scende giù, va al diffuso con il 25, flash, mi sono sentito in ospedale e ho fatto questa considerazione. In ospedale ho il camice, ma comunque io sono dottore della mente, ce l'ho anche scritto. Qua sono vestito da montanaro, però dove era il sentiero lo sapevo e comunque dietro, nello zaino, c'ho la carta dei sentieri perché non mi voglio perdere, quindi queste due mie facce sono abbastanza coerenti. Chiaramente se andavo sulla pania vestito col camice e in ospedale Copantino alla Zuaba, forse non era così la stessa cosa. Allora, cosa vuol dire che Pruneti è incoerente? No, che Carlo Pruneti ha nello stesso tempo diverse cose e si sforza di esserlo, perché niente è facile nella vita. Appena trovate la ricetta del vivere felice, se me la passate anche a me, io ben sono grato. Però questo esempio vi dice com'è facile invece... come? E' essere l'amore di niente. Hai detto niente? Vabbè, dire Berlusconi che... Vabbè, diciamo... Vabbè, niente, niente, mi è scappata, scusate, scusate. Vabbè, lasciamo stare. Dicevamo, è vero, l'Incantinunc però lo predicano da qualche giorno, capito, qualche settimana. Quindi, queste persone hanno questo grossissimo problema, portato all'estremo, tant'è che il loro vissuto è così scarno rispetto alla loro, fra virgolette, natura, e si parlava di natura con lui prima, da farli soffrire al punto da farli scoppiare, letteralmente. L'ultimo è la depressione, e qui si parla della depressione di cui io accennavo prima. Quindi non è la sindrome depressiva maggiore, ovvero la depressione cronica in cura psicoterapeutica e psichiatrica, ma è quel tipo di depressione chiamata exhaustion, di cui io accennavo prima. C'è una sindrome, di nuovo, di esaurimento e di non contentezza. Quindi vedete che le quattro componenti, psico, fisio, in qualche modo sono strettamente connesse e hanno a che fare con un sano godimento e con il piacere. Quindi non è con l'eroina, con la coca, con l'LSD25, con il peote o quello che vi pare che sottiene il vero godimento, o con altre cose. Ripeto, la ricetta e la felicità non ce l'ha nessuno. Però nel dare adeguati spazi o insegnare agli altri, o far vedere agli altri. ecco un ruolo positivo di uno psicologo, non necessariamente che si occupa di terapia, ma imparare bene strumenti di valutazione funzionale, non diagnostico-etichettante, da appiccicare sulla testa. Perché soltanto far vedere l'alto attraverso gli occhi, non solo tuoi, per quanto tu sia bravo, ma anche di strumenti o di sistemi, è un modo, cioè l'area cosiddetta restituzione, che non è la diagnosi in senso clinico, può essere estremamente importante e utile per iniziare appunto un percorso di cancer. Lui non ve l'ha detto, ma prima lui mi ha fatto una domanda sulla naturalità, sulla biologia, su queste cose. e dobbiamo stare molto attenti perché il ritorno alla natura è un modo di dire, è un modo a volte per sciacquarsi la bocca con dei bei concetti. Naturalità è un avverbio che non ha molto senso, ha più senso naturalezza. con dei se e dei ma, perché se la dottoressa li viene di fare un rutto e fa in mezzo qua, è molto naturale, ma anche molto maleducata. È chiaro? O lo stesso fa e nel frattempo fa un'altra cosa. È molto naturale. Sì, cara, però è biologico che la tigre si mangi la gazzella. Invece noi diciamo poverino bambi, perché umanizziamo, antropoformizziamo, quindi cambiamo le regole del gioco. Noi stiamo per bambi. Brutto è il lupo, vive i porcellini. O no? Poi il porcellino ce lo mangiamo in Sardegna, il porceddu ce lo tagliamo a fette e ce lo mangiamo. Oppure, al contrario, diventiamo tutti vegetariani e vegani. Altra cosa assolutamente contro natura. Assolutamente. Qualcuno è un accidente, il Padre Eterno e la Natura ci hanno fatto una dentatura, un sistema digestivo da univori. Punto. Poi tu vuoi mangiare l'erba, mangiare l'erba, però non hai... No, dico tu per dire. Non hai sette... No, 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 no. Noi non possiamo digerire, non abbiamo alcuna possibilità di digerire le fibre. Non possiamo. Tant'è che i ruminanti ruminano e noi non siamo né pecore, né capre, né buoi, né vacche, né tutto questo. Non è necessario di digerire le fibre. Ora... Perfetto, benissimo, perfetto. Docet, il qui presente. È così. Cioè, non è scritto da nessuna parte, però è chiaro che tu puoi avere meno problemi se mangi meno schifezze. È vero. È vero che se uno fa una vita come la nostra è inutile che mangi tutti i giorni la carne o che la mangi a fare. O che vi servono tutte le proteine nobili. Quando le ha mangiate una volta alla settimana o due, basta e avanza. Che lo mangiamo a fare l'hamburger da McDonald's, che fa anche schifo. Ok. Però il problema è appunto, come appena ha detto lui, quindi naturale, dobbiamo stare attenti a cosa vuol dire, perché naturale vuol dire questo, vuol dire viva la tigre, viva seguire, viva il lupo. Il lupo fa il suo mestiere, il lupo fa il lupo. Quello che faccio? Se no ci chiamerebbe lupo. Che brutto, cattivo il lupo. No, non è cattivo il lupo, il lupo è un lupo. Lo reintroduciamo nelle montagne e poi dice, ma si mangia le pecore. Ma va! O questo perché si mangi? L'erba, il lupo. L'orso in Irpinia è su nell'Abruzzo. E poi si fa fuori le... Poi ogni tanto qualcuno l'ammazza e dice, sai, hanno ammazzato l'orso. E gli ha mangiato mezzo greggio. L'ha ammazzato sì. Cattivo il cacciatore. Perché il cacciatore è cattivo? L'orso gli ha mangiato il greggio. Cioè, capito? Bisogna qui trovarsi d'accordo su un parametro. Cioè, se io so che gioco a 3-7 e lei gioca a briscola e non va bene. Se gioco a scala 40 e lei gioca a burraco le regole non si incrociano mai, eh. O sposiamo la naturalità o naturalezza. E allora cerchiamo di essere naturali. E allora vi dovete levare tutti i pantaloni. Perché voi donne doveste tenere la nicchera all'aria. bella ventilata come fece una mia studentessa durante la laurea. La Moira. Aula anfiteatro. Arriva vestitino, bellino, tutto messo lì. Comincio a parlare. Ah, dico, ha fatto una bella tesi in neuropsicologia. Poi dopo un po' si mette così e dico, no, aspetta, non puoi fare. Finire a luglio. Fantastico. Cioè, naturalezza vuol dire che biologicamente vi fa male dovreste almeno avere l'intimo di cotone. Almeno. Perché c'è un aumento del 4.000% dei disturbi della zona orogenitale femminile. E non solo solo le candidosi, anche peggio. Dice, ma tu sei un retro, sei un musulmano, ma che è un musulmano? Logicamente, noi ci dà noia per una data percentuale. Perché ci danno anche a noi, specialmente non c'è nessuno che ha i jeans stretti. Ma se l'avete portato i jeans stretti danno noia a noi. Perché il Padre Eterno o la Natura ci ha fatto delle cose pensoloni perché dovrebbero stare a una temperatura più bassa del resto del corpo. Se noi prendiamo un affare e ce le schiacchiamo su, c'è una diminuzione dagli anni 60. Hanno calcolato dal 69 al 2009 c'è un aumento del non so quale percentuale che non mi ricordo di infertilità maschile che si pensa sia dovuta a questo. Ora, è chiaro che naturalità o naturalezza non vuol dire che ci facciamo un buco e andiamo a giro con gli affari pensoloni. Non è questo. però questa è naturalezza insieme all'orso insieme al lupo vogliamo fare altri esempi insieme alle ruttazioni o altre cose strane che in altri paesi dicono ah, ho gradito il pasto. quindi o scegliamo una via o scegliamo un'altra perché se no la gente si confonde e va più spesso dallo strizzo a cervelle il che fa comodo a lei però non è un buon segno per la nostra società perché il vero psicologo dovrebbe soprattutto lavorare insieme alle altre equip a livello di prevenzione secondo me. non lavorare per rimettere in riga non si sa chi non si sa come perché oggi un mondo senza alcun tipo di regola ci sono vegani con Beronesi che dice ah, la carne fa male è vero adesso ma è certo è certo va e quindi devi riaccomodare in qualcosa rotto se invece ci pensi prima però devi essere chiaro sul messaggio da dare non puoi dire andiamo tutti a rivivere nelle caverne riapriamo le case cose lì come si chiamano le case grotta che cosa si è matto l'età è aumentata perché l'igiene è aumentata poi ci facciamo venire un sacco di stupi della pelle perché continuiamo a strofinarci come pazzi voi donne per l'amor di Dio non vi mettete nulla dentro perché ora ci sono le cose disinfettanti state molto attente esattamente lavande vaginali e non solo dubbi perché queste cose però non le deve dire pruneti a delle persone della vostra età ma dovrebbe essere detto in terza media che l'equilibrio altro aneddoto tanto sono le sei scuola di specializzazione quindi ci sono al tempo c'erano medici e psicologi riaula anfiteatro che appa una come te e per parlare del condizionamento sociale gli dico per esempio quella è la tua parte del corpo relativamente più asettica risposta veloce su comunque relativamente più asettica e questa normalmente rispondono le mani e la bocca che sono le parti più sudice possibile del mondo in particolare la bocca è l'orifizio aperto all'esterno pieno di batteri di ogni tipo la cosa più schifosa che possiamo fare è darci un bacio sulla bocca è lo schifo come io la penso come te e a me fa molto schifo e prima di baciare una persona sulla bocca devo essere veramente molto preso ma al di là di sapete da cosa viene il bacio sulla bocca? perché ci si bacia? l'ha letto parliamo già della non ricordo male della grigia? no no ma senza andare anche 200 anni fa o 150 anni fa ora c'è ci sono gli omonogenizzati plasmon ma al tempo le madri masticavano e sputavano nella bocca del piccolo il bolo mi ha scicato quindi era uno scambio di liquidi tra consanguinei quindi a retaggi molto antichi è come il patto di sangue degli indiani mi faccio un taglio e scambio il mio sangue con te da cui è la maggiore familiarità possibile comunque anche la dottora o i dottori che erano la specialità non sapevano rispondere perché c'era un blocco sociale eppure specialmente i medici l'hanno studiato in una donna che si lava normalmente all'interno della vagina è il posto più relativamente asettico del suo corpo perché c'è un equilibrio acido-basico sull'acido esatto ci sono delle famiglie lavarsi ma senza andare dentro senza mettersi tutte quelle cose che consigliano perché lì ci devono stare quei batteri hai capito lì ci sono famiglie di batteri come nell'intestino noi ce l'abbiamo anche nell'intestino ma ce ne sono meno razze invece vi sono alcune razze come il tricomonas come la candida eccetera che lì ci devono stare ma sono un equilibrio tale che si compensano se io lo sconvolgo uno di questi prende il sopravvento e siccome ce n'è troppo mi si infamma la mucosa quindi ho dolori ho pruriti o cose varie quindi di nuovo siamo una società di questo tipo io ti do qualcosa per farti venire un qualcos'altro perché così tu prendi un'altra cosa ok quindi anche questo detto nei giusti metodi con le giuste considerazioni la conoscenza cioè l'appropriarsi proprio in senso latino di certe nozioni biologiche naturali può favorire lo sviluppo e impedire entro certi limiti certi disturbi non capisco perché non viene che vengono insegnate viene insegnata l'educazione sessuale no? ma le donne tutt'oggi neanche ma le donne non sanno come le funziona non lo sanno gli uomini pure per l'amor di Dio e arrivano all'età adolescenziale con questo coso fra le gambe che non sanno bene come trattare e poi semmai se lo guardano se lo cosano se lo confrontano con gli altri maschi voi femmine non avete un'idea del condizionamento a proposito di sesso ragionate su questo il simbolo del maschile è una verga alta così grossa così in tutte le mitologie o religioni non è una geggino pensonone un cencino ma una bestia di buono anche la maniera ora voi pensate che noi abbiamo fra le gambe la possibilità di fecondare ma per l'appunto è l'unico organo sul quale non abbiamo alcun controllo cosciente possiamo muovere anche le orecchie se vogliamo un pochino ma quello come? non mi muove 19 anni però se non so come fa però c'è la mamma ma guarda lo muove da solo e lo muove poi è il moscino però i bambini hanno i bambini cominciano a conoscere cominciano a toccarsi a mettere le mani giù fanno cose strane ma non c'è il controllo cosciente non lo fa lui poverino fa quando è a un certo altezza muove muove le nati che fa bim 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 fa così sono ho quattro figli di cui tre maschi capito? tornando al dunque pensate a questa questo condizionamento intanto sociale dell'uomo forte che ha l'anerchia grande come tutta questa casa e compagnia bella che è legato alla potenza che una volta è la potenza fecondativa oggi la potenza è proprio del maschi pensate al confronto voi non avete idea ma io ho incontrato soggetti che erano così tanto condizionati che io ho dovuto fare proprio un lavoro solo su questo e spiegargli per esempio che se te lo vedi dall'alto in basso la il punto di vista è tale che non lo vedi adeguatamente non è chiaro che la prospettiva te la piattisce poi qui vedi l'aggeggio di Giovanni che può essere come il tuo non come il tuo eccetera ma il tuo non te lo vedi nella realtà non lo vedi schiacciato comunque che non è grande a parte certi limiti eccetera fisiologici che non è particolarmente importante però è un condizionamento un esempio fortissimo di cui non si parla e sarebbe importante anche qui fare delle piccoli gruppi esempio nelle scuole e io personalmente li farei anche separati perché appunto non siamo uguali abbiamo gli stessi diritti abbiamo ma spiegare certe cose ai maschietti non ci vorrebbe molto secondo me si eviterebbero una serie di problemucci dovuti alla scarsa coscienza o conoscenza mettete che ci sono famiglia che non è molto acculturata già di suo di provenienza si immaginate che tipo di pensieri di 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 io ho trovato nella mia casistica un ragazzo che stava malissimo essendo diventato gay era andato ormai era da batuage sapete cos'è il batuage insomma andava a battere eh si si e tutto era cominciato perché il pediatra vedendo il gracilino aveva consigliato il papà di mandarlo a in palestra da ragazzino questo in una palestra dove c'erano un po' di tutti cominciava a osservare con invidia quelli più grandi di lui che avevano un corpo mai fatto quindi Aburl ha cominciato dal petto del pettorale a vedere questo pettorale quindi si era sentito attratto parlando con quelli più grandi ha trovato delle persone più grandi che hanno detto ah va bene sì ma io ti faccio te faccio dire anche a te e tanto per parlare del mare dell'arci sono andati all'arci gay e lui all'arci gay c'è rimasto però ovviamente viveva male questa cosa al punto di stare veramente male e soltanto che io non ce l'ho fatta ad aiutarlo più di tanto ad aiutarlo psicologicamente anche questo è molto importante non mi importa non è è chiaro che per la natura di noi si parla di naturalezza dobbiamo essere maschio femmina perché alla natura l'interesse che noi produciamo prole e proseguiamo la specie la consegna cosa ha detto stamattina lo ripeto non ne frega proprio niente di Carlo Prunetti o degli altri quindi questo è un discorso di naturalezza a livello di rispetto dei diritti però la cosa cambia ti piacciono gli uomini e beh gli uomini basta che non rompi le balle a me diceva qualcuno nell'antica Grecia che citava lui la libertà individuale finisce dove comincia quella degli altri qual è il problema è naturale non è naturale no non è naturale ma non me ne importa niente non è naturale nemmeno fumare una sigaretta se è per questo è naturale no non è non naturale però finché non ne fumo 20 come lei che spera non ne fumi 5 non mi casputta è nato in pubblico cerco solo di migliorarti ok è naturale bere whisky o la corona con dentro il limone naturale ma dai quindi va benissimo però nella mia personale esperienza e permettetemi l'immodestia uno dei miei pezzi di carta raccattati anche in sessologia medica io sono convinto che l'omosessualità sia maschile che femminile sia assolutamente sopravvalutata e che i veri fra virgolette omosessuali sono una percentuale bassissima e che l'influenza sociale e culturale sia invece massiva verso una diversità forzata ripeto una reazione e un'esagerata omogenizzazione e globalizzazione per cui io mi sono trovato male con lei e allora io vado con lui per dire ora io la sto facendo molto stupidamente banale o lo stesso maschile e femminile dica grazie 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 questo è oltre in conto a mio padre è un istituto la vita e mi raccontano che chi hanno che i nero sessuali hanno raccotti con loro che magari di fatto è poi no le scienze che qualche pentalo invece sono di più omosessuali da sempre lì penso l'antica grecia c'è la luce romana quella è una cosa diversa allora rappresenta il figlio dove fanno lo strano non è una cosa non è una cosa capito pun sangueva tutto bene nell'antichità tra la simbolo che non è grecia romana in guerra si portavano le donne e le ragazze dopo io poi quindi non è questo il problema è del rapporto su cui cerchiò di parlare anche l'omano cioè il livello di comunicazione paradossalmente le coppie gay o lesbia sono assolutamente uguali alle coppie che sono denunci balle guagli che sono uomini o no non cambia nulla funzionano benissimo il grosso punto di riferimento però sbagliato è che questo venga fatto vedere la chiamata ma lo senti appena puvere come una della uscita ma non è una della uscita la stessa cosa quello che ripostruiscono a me piacevano gli oldeck i giochini femminili maschili e scuola e tal 90 su 100 sono pardoni il è tutto io sono mamma noi abbiamo io e mio marito abbiamo due associi diversi rispetto a una sessualità io la considero naturale cioè ne parlo voglio dire ne parlo con tranquillità ho insegnato mio figlio a non evitare le persone come chi perché loro lo fanno ragazzi nelle scuole medico quello è il piede quello è il piede se mi insultano in questo però posso un attimo perdonare perché mi ricollego ho un input perché tutta questa cosa è nata da quella condizione devo stare capace distinguiamo perché le parole hanno un senso naturale naturalezza naturalità è una cosa rispetto della diversità è un'altra la seconda è una scelta morale ed etica perché se no capisci che si vuole leggere vanno gli ebrei e i musulmani vanno tutti gasati perché si mettono così e questa è la mia domanda cioè io ho questo affeggiamento molto tranquillo e rispetto i diritti di tutti e quindi l'omosessuale è una persona come me che ha fatto delle scelte diverse io sono etero lui è omosessuale per mio marito non è così cioè lui considera gli omosessuali come dei deviati dei deviati beh sono deviati se capite è uno storio di tutto il visto però lei stava dicendo prima che ne aiuto perché un po' di studio un po' di consenso che comunque dare a ragazzino che quella possa consentire di essere una via di fuga è sbagliato perché poi non è sbagliato no 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 attenzione attenzione hai tanto canzio mi permette di precisare una cosa allora lungi da me tanto per cominciare a scrivere giudizie primis io cerco di dire opinioni e di passarvi un po' di conoscenza cioè di cose di cui io mi stesso mi sono appropriato e di cui sono abbastanza convinto questo non vuol dire che io sia la bocca della verità o fra oggi un colore assolutamente gli ho detto ho un po' di esperienza cioè io sono entrato a lavorare sono laureato il 2 di luglio a dicembre a lavorare in ospedale ero un bambino e mi hanno mandato tra i bambini facciamo le test di un psicomotorio a quelli che erano amati che mi sono immaginate che erano 24 anni quindi vengo dalla pratica non vengo da nessun tipo di qualcosina ho imparato cerco di trarmi anche i frutti e di insegnarlo anche ad altri quindi attenzione non si esprime i giudizi qua di valore dico che da un punto di vista di naturalità e di biologia è chiaro che la scigna che va con la scigna allo stesso sesso è una deviazione l'uomo che va con l'altro uomo una donna che va con l'altro uomo è una deviazione si parla di biologia come? rispetto al modello biologico biologico capito? ma allora ho fatto l'esempio prima se tu segui la biologia fai le comportamenti che non sono considerati etici morali o comunque educati secondo queste reti ho fatto l'esempio di una sigaretta potremmo fare di 3.000 facciamo delle cose come i vostri pantaloni che sono dettagli naturali secondo la biologia quindi se scegliamo la biologia solo come punto di riferimento secondo me non andiamo quasi avanti non sono così convinto personalmente rispettare la biologia entro certi limiti secondo me è fondamentale perché forse viviamo a più a lungo ma viviamo male questa è la mia idea però basarci solo su questo nel nostro mondo è estremamente effettivo io sono convinto nella mia esperienza professionale però come persone che stanno male fuori dal mio studio dall'ospedale dall'autocolavorato ci sono un sacco di persone che invece vivono la loro sensualità poi mi hanno benissimo io non ho nessuno ho però dei dati che mi dicono mio cugino che dopo due fallimenti matrimoniali a questo punto si è innamorato con un sessualità ma oh va bene ciao ovviamente io c'ho ma c'è ha scoperto a 43 anni la sua sessualità grazie è un caso da sinistro c'è un padre un padre inesistente e una madre uomo che l'ha per tutta la vita silenziato gli ha impedito di studiare come la studiare quindi tu c'è un odio al tabico per le donne non conosco casi dove si doveva un padre che è un padre partone e una madre ma lo so non c'è una regola non c'è una regola però spesso con i piedi non si sente che si diventa un sessualista e che magari ha una condizione familiare degli abusi subiti eccetera ma in realtà questo non è vero oppure l'omosessuale vero è quello che nasce proprio così che fa una domanda l'omosessuale vero secondo me è quello che nasce con la distruzione e sono pochissimi poi con la distruzione io ho visto anche il mafio ditte eccetera sono spesso e volentieri sistemi compensatori di frustrazioni non elaborate in età precedente dall'adolescenza in poi c'è capito anche qui però come diceva giustamente non so come si chiama non vi è una regola universale così come esiste la famiglia anorestigena ma non è una regola cioè è molto frequente una famiglia particolare dove il proprio materno quello paterno condizionano fondamentalmente la figlia ma di basta non è sufficiente c'è stato un periodo in cui tra i ragazzi si bandieranno quasi come un altro di sessualità loro vanno di sessualità ma in realtà sono perfettamente d'accordo con la vicenda però io non sono ma in modo più frequente nel gesto femminile delle ragazzine giovani perché vuol dire fare qualcosa che c'è di diverso di più è un quasi volumato quindi è come bere di acarci fare qualcosa e ho fatto l'esempio del fili del drone mavolo perché per cui c'è mavolo strano e è qualcosa di questo tipo che non ha di per sé un valore e purtroppo provoca frustrazione e dolore e depressione e non sei depresso perché siamo sessuali se è depresso perché vivi ritorniamo alla palla con tutti gli specchietti dei pezzettini perché noi siamo tutti bisogni con orientamento quando quando siamo nel greco materno non lei ma lei sei mesi fa c'era un aggeggino che poi a tutto il punto si è deciso a venire fuori noi lasciamo al stesso modo quindi abbiamo un orientamento così biologicamente poco evidenziato che storicamente dalla nascita è sempre separato il maschio dalla femmina in maniera che il maschio fosse sempre maschio e la femmina più sempre femmina non ci sarebbe stato bisogno nel passato di questo forte condizionamento sociale se quello biologico fosse sufficiente quindi noi siamo bi siamo molto molto simili no? e quindi è un po' di disfunzione cioè i casi abbiamo confrontato quelli più ma insomma la sinuma di Wilson per esempio è meravigliosa la donna perfetta donna bellissima alta clara non c'è un pezzo però dentro c'è testicolo al posto che le comande questo è un po' maraviglioso vista non di speciali a livello ormonale noi ci chiediamo a livello ormonale a livello ormonale c'è cioè sì allora ci sono anche quelle alcune velocità però però io mi sono anche dei cani anche a me in scuola come? questo è un po' di cani ma non sono ma non sono ma non è ma non è ma non è ma non è diverso nessun mammifero ha un estro continuo come la festa maraviglioso nessuno le femmine delle animali hanno i due estri a borde a borde a borde a borde anche di moda ma qui non si tratta di andare a contare quante volte succede ripeto per la natura il significato è la più genere cioè e la diversità quindi più ci mescoliamo come viste il grande problema ci mettiamo e meglio e più ci mescoliamo poi i nostri costumi cambiano ma poi rimangono soprattutto le stesse bravo anche le seccole non cambia mica anche l'aspetto di diceva Dino è molto legato alla realtà che fa un lavoro di rischio cioè c'è stato un periodo di comunità aveva fatto fatica a lavorare su questo perché si è diffuso di soltanto questa modalità perché noi nel tempo siamo venuti a conoscere quello che ha fatto la mia cosa c'è ragazzi che non erano omosessuali ma era venuta fuori questa modalità che aveva poco infatti l'irregolarità chiamata irregolarità diciamo la provvisualità sessuale non è un periodo di pensare cioè ti vuoi scopare tutta la provincia di chi è tutto questo si chi va bene io appunto come paziente che ho lavorato per anni con un andronco e qui mi sono trovato una varia di problemi sessuali che non sono torrescati perché poi i problemi sessuali sono anche gli stessi ma se non c'erano normale non avrebbero scolato le scatole perché ripeto sono sempre le stesse quindi sono le persone che hanno fatto le scambio che hanno fatto provato tutto qua il punto è che in fondo tutti noi ma tutti qui presenti vogliamo essere amati punto quindi vatto per quello che siamo poi se ci sta una bella scopata o se mai occupate così anche più di perverso va benissimo ma quello che vogliamo non è essere considerati essere accettati essere accorti essere corporati quindi questo è il fine ultimo ma anche chi è linfomone cosa c'è dubito che esista la linfomone nel senso che la linfomone è di fatto è un'ossessiva ma esiste io ho fatto anche maschile che doveva scoparsi 5 o 7 persone sono diretti ok tipo con il e è un altro ossessivo oppure è un disturbo grave di personalità chiamato disturbo di personalità che è tipico perché è poveretto il maschile dove si trova una bella donna borderline perché è terrificante perché nel momento in cui c'è ti fa sentire Dio è tipo una cascia e poi chiaramente è come se avessi un intervento restacca e fai i cali sogni e tu puoi andare via è una forma ossessiva di disturbo ossessivo compulsivo e tenete presente però questo che come al solito conta conta la qualità poi fare l'amore è per sempre piacere però gli soliti americani anche dopo Master e Johnson che sono andati a misurare sia gli ormoni sia le endorfine hanno visto che la increzione di endorfine dopo un altro sessuale con persone occasionali rispetto a delle cup che già date era rapporto a 1 a 2 mila una cosa del genere cioè le endorfine sono delle sostanze che noi produciamo che danno un benessere psicofisico una specie di autodroga positiva e non erano prostitute o prostitute erano persone che hanno accettato di avere un atto sessuale e sono andate a misurare queste cose quindi il piacere provato è lo stesso no non è lo stesso e il piacere c'è ma qualitativamente e soprattutto nella nostra memoria non produce degli effetti così positivi la moda di oggi è quella di bere come minimo se non impasticcarsi in maniera da disinibirsi in maniera da andare con il primo che capita ovviamente la mattina dopo non ricordi niente e quindi è come se tu non avessi fatto un accidente nulla la moda dello stordimento è molto purtroppo nelle giovani generazioni di moda e che tu lo faccia con un uomo o con una donna a quel punto ha pochissima differenza ok poi appunto regole in questo caso non ci sono un importante veramente di essenziale importanza Fabio è attenzione dal punto di vista dal quale ti metti qualcuno vuole rifare un po' di teatrino così va via qualcuno si offre volontario ho bisogno di un di una vieni tu monta qua senza picchiare la testa lì monta su sei lunga monta il piede di qua occhio all'alto sei lunga oh ho sapevo che indietro che c'è qui c'è il piede sotto non morre no no è sopra è sopra come va ci senti a centro l'attenzione no allora allora intanto vi è una piccola differenza dentro di lei fa la piccola e dice va bene però è tutto così mi hai provocato la risposta idale del ricordo perché perché hai creato una cultura cioè rispetto all'equilibrio che è presente in cui eravate i preceduti tu hai dato una cultura rispetto a un certo tipo di realtà e noi viaggiamo emotivamente in questo modo con questa strada di stato voglio come va adesso buongiorno 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 grazie ma mi hai fatto il contatto vado bene Ora come va? Meglio o peggio? Meglio. Quarta caso. Ora come va? Meglio? Ora come va? Direzione. Bene. Allora, nelle tre posizioni politiche, sedere l'aria, viene il ginocchio così. Abbiamo fatto un test. Cosa riguarda il nostro test? Si riguarda esatto come noi ci percepiamo nel nostro spirito di libertà e come viviamo la posizione ambientale dell'ambiente. Dentro di lei è cambiata la sua realtà. Perché? Dobbiamo guardare sui livelli. Se voi siete lasciati. Tornando al punto, dentro di lei è cambiato quanto è l'acide, lo scantaggio. Quindi lei ha trovato delle emozioni diverse da quando è seduta a quando è in piedi. le prove leggermente diverse anche a seconda della mia posizione. Perché se mi è vicino troppo... Questa è la posizione di nuovo naturale. Questa è la classica distanza che è necessaria per non provare alterazione di sorta, che è all'incirca quella della lunghezza del braccio. Noi siamo biologicamente condizionati a allertarci se questa distanza, che si chiama prossemica, viene ad alterarci. Poi, io posso essere gradevole o non gradevole per lei, però c'è uno stato di allarme. Ok? Io, per esempio, odio le persone che mi si avvicinano. È una questione appunto di... E questo ha a che fare proprio con il senso di libertà. Ora, non mi ricordo quanti... Maria Grazia. Maria Grazia, ma te l'ho chiesto 70 volte. Eri anche la numero... Eri la numero uno. Allora, questa stanza è sempre la stessa stanza. Le persone sono rimaste le stesse. Quindi cosa è cambiato? Il contatto con... Terra, cioè il pavimento... È cambiato il punto di vista. È cambiato la... La prospettiva in cui vedi la stessa realtà e in cui anche loro l'hanno vista. Quindi ritorniamo alla solita palla. Ecco che cambiando... Non è cambiato nulla. La realtà... Terra, soffitto, le seggio... Ah, il contatto però... Ho capito, ma... C'è a chi piace e c'è a chi fa paura. È vero. Ok? Essere aderenti a terra è una sensazione piacevole per alcuni. Per altri è assolutamente destabilizzante. Questo dipende appunto dalle caratteristiche personali. Grazie. Allora, questo esempio spero che sia servito a chiarire. Quindi non è la realtà... A volte cambia la realtà, ma noi cambiamo molto spesso a seconda della prospettiva da cui vediamo e percepiamo la realtà. La grande abilità, quindi, è quella di muoverci. Ecco perché il nostro mestiere è di moda. Perché noi cerchiamo di diventare l'altro. Però anche nei vostri rapporti di coppia, anche tu con il marito, se tu hai un livello di comprensione, come dici, di avere, sei tu che devi muoverti. Se ritieni di avere un punto di vista... Se vi picchiate davanti a lui, sì. Quanti anni ha? Mettetevi d'accordo su cosa dirgli. Non date due messaggi diversi. Se no, andate da un bravo psicologo e gli fate parlare a lui, se ne riuscite a fare. Evitate di dare due messaggi assolutamente diversi. Parlate voi due. Non se dire che sono due messaggi diversi, non è che questo può non durare i ragazzi di arrivare a un... Ma ci mancherebbe altro? Abbiamo... Se la sua disponibilità ci ha con l'accettazione degli omosessuali, non viene scusa. No, 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 calma, calma. Non diamo consigli... Allora... Si danno consigli per non dare cattivo esempio, diceva qualcuno. Allora, un certo Fabrizio De Andrè. Allora, non diamo consigli. Prima cosa, va esaminata attentamente, chiedi un consulente, eccetera. Evitare in qualsiasi modo di dare due messaggi diversi. Non... Assolutamente, assolutamente. Assolutamente. In questo caso, se il marito non ha voglia di cambiare il suo atteggiamento, vi dici semplicemente, guarda, a meno a non parlarne, lascia perdere. Tanto lui se ne accorgerà a scuola, a dodici anni. E' un'età di transizione per cui il tuo ruolo materno da ora in poi calerà moltissimo. Rassegnati, lo so, va bene. Lo deve fare, va bene, è fisiologico che sia così. Rassegnati. Quindi, se tu insisti molto, rischi una regressione e non è il caso. E il padre semplicemente gli dici, statene quieto, ti entri le tue idee ma non rompe troppo le balle. Una volta che gli hai detto in privato, lasci correre. E quello che succede, succede tanto ormai è più la società e l'ambiente che lo plasmeranno, il ruolo genitoriale ora è relativo e contenitivo. No, è diverso, non è in fase calante, è molto importante lo stesso. Però è di tipo contenitivo, lui deve essere, deve avere la sensazione di essere protetto e accolto comunque a calo. Basta. Quindi evitate di fare discorsi, non rompete le balle a questo povero figliolo, mandatela a giocare, a calcio. E risparmia quel fiato per un'altra occasione. Sì, per quello che serve puoi tacere tranquillamente. Tuttiani per te, tanto non si condizionerà, come ha detto giustamente lei, né in un senso né nell'altro, e puoi creare solo uno stato di risentimento e basta. Il modello è quello lì, quindi è chiaro che l'orientamento va secondo quel modello e segue, fino a che distruggerà il modello, entro due anni distruggerà il modello, quindi non ci sono problemi. Entro un paio di anni massimo il modello maschile, se lo mangia a morse e lo risputa. Quindi bisogna avere solo pazienza. Appena entra in adolescenza piena, il modello paterno, arrivederci e grazie. Se l'hai già mangiato e digerito. Va bene? Domande? No. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a voi per l'attenzione.